Un cordiale saluto da Alex Guarini di Trebimeteo. Nel corso di domenica una circolazione di bassa pressione interesserà in particolar modo la penisola iberica e il mediterraneo occidentale con rischio di qualche pioggia. Andrà meglio invece sui versanti centrosettentronali del continente con spazio per maggiori schiarite. Ma andiamo a vedere nel dettaglio il tempo previsto sull'Italia con una bella domenica di sole un po' su tutte le nostre regioni ad eccezione dei versanti alpini specie centro-occidentali ed anche sul sud della Sardegna dove non escludiamo qualche debole precipitazione. Entriamo ancora più nel dettaglio partendo come sempre dal nord Italia che assisterà a una bella giornata di sole su coste e pianure mentre al pomeriggio una maggiore nuvolosità si concentrerà in particolar modo sui versanti alpini centro-occidentali interessati da locali acquazzoni o brevi temporali. Ci spostiamo ora al centro con un cielo in gran parte sereno e poco nuvoloso sia sul versante tirrenico che sull'adriatico mentre al pomeriggio della nuvolosità di evoluzione diurna si svilupperà sull'Appennino ma senza conseguenze. Stessa situazione anche al sud con bel tempo un po' su tutte le nostre regioni e clima particolarmente mite. Una maggiore nuvolosità interessare invece soltanto le isole maggiore con qualche piovasco pomeridiano più probabile sul sud della Sardegna. Con questo è tutto, per maggiori dettagli vi invito anche a scaricare l'app di 3B Meteo su smartphone e tablet.